Ha partecipato in forma discreta anche dopo, è meglio che poi sentite però direttamente lei, Alessandra Clemente che è andata anche al bar, è stata a Piazza Calenda. Noi ci muoviamo come sempre con discrezione, studiamo quello che accade, entriamo in profondità, stiamo nei luoghi della sofferenza, ci staremo anche in questo caso come ci siamo stati per Cesarano, come ci sono stati per Galletti, ieri sono stato a Rione Traiano dove il lavoro straordinario che sta facendo l'associazione che è nata dopo la morte di Davide Bifolco, il dopo scuola dove stanno i ragazzi dei centri sociali, dell'associazione, ci sono le mamme, la famiglia Bifolco e ci siamo noi. Quindi un lavoro che il comune fa e c'è sempre, c'è sempre da fare di più perché come dicevamo prima non c'è mai un tetto dove dici sono arrivato, non c'è altro da fare, ma noi ci siamo e ci saremo anche in questo caso e soprattutto ci saremo qualora si dovessero dimostrare che ancora una volta crescono come ho detto prima le vittime innocenti. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione importante sulla prevenzione e repressione dei reati, quindi importante la presenza delle forze e l'ordine ma è ancora più importante questo lavoro che si sta facendo sul territorio. Solo io sono stato a Forcella nell'ultimo mese credo 3-4 volte, quindi noi ci dobbiamo stare, dobbiamo dare segnali, dobbiamo essere punti di riferimento, noi per la nostra parte, i parroci per la loro parte, le associazioni per l'altra parte ancora e devo anche riconoscere che una presenza maggiore, seppur non ancora sufficiente, delle forze dell'ordine sui presidi anche di strada ci sta, insomma la città sta rispondendo. Ci auguriamo che tutti questi segnali vengano raccolti da chi non ha ancora scelto per sempre il crimine questo deve essere il lavoro, come ho detto prima, cioè convincere le persone che stanno sul confine tra legalità e illegalità che legalità conviene, conviene da ogni punto di vista come scelta di vita ma conviene anche economicamente.